E' una squadra ospite che sblocca il derby. Suggerimento interessante tra le linee. Lancio ben eseguito, può andare in porta. E c'è il gol! Ha scelto la soluzione migliore, la più elegante. Che ne palla in attesa del barco giusto. Palla dentro dopo la prima risposta del portiere. Non ha sprecato l'occasione. Palla in rete sull'errore del portiere. Lui non ha sbagliato. Palla in rete sull'errore del portiere.